La risposta di Carlo Tavarsi, amministratore delegato di Stellantis al presidente della regione Abruzzo, non risolve né ci toglie i dubbi che avevamo fino a qualche giorno fa. Purtroppo, anche se l'amministratore delegato sostiene della centralità dello stabilimento di Atessa, la cassa integrazione aumenta, ci sono circa 1.300 dipendenti oggi ancora fuori dallo stabilimento e la produzione è scesa di circa il 50%. È vero che ci sono stati investimenti che rendono il nostro stabilimento più competitivo, ma è anche altrettanto vero che questa attività ha diminuito la capacità produttiva dello stesso stabilimento. Inoltre, sono anni che come Fiumiciste riteniamo che le infrastrutture siano necessarie per la nostra regione per rendere più competitive le aziende Stellantis e anche tutte quelle dell'Indotto.